lunedì 6 novembre 2023 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa vi ricordo due cose importanti la prima è che il numero di telefono al quale potete mandare i vostri vocali whatsapp ed essere protagonisti della prossima puntata di talk è il 366 11 12 9 64 366 11 12 9 64 ogni tanto passa anche qui in sovraimpressione potete lasciare i vostri vocali whatsapp e il secondo appuntamento è quello di questa sera 18 e 30 a compagnia della live in diretta vedremo insieme le vostre pagelle pagelle che avete dato i giocatori dopo milan udinese e scopriremo chi avrà vinto il venturino d'oro di oggi chissà chissà la battaglia è apertissima chissà vabbè andiamo ai temi di giornata la vittoria della juventus ieri contro la fiorentina 1 a 0 in casa di viola ieri sera successo in rimonte in extremis della roma contro il lecce nostro prossimo avversario e la doppietta di colombo che permette al monza di battere il verona questi temi della giornata di serie a andiamo a vedere subito al max le prime pagine dei giornali perché sono tutte al max questa mattina eccolo qui la gazzetta dello sport risposta al max la juve sbanca firenze duello scudetto con l'inter subito miretti golli viola sbattono sul muro allegri dice il titolo altre sono più attrezzate la signora fa spettacolo con i punti l'editoriale di luigi garlando ma in zaghi corre più di conte tutti i numeri della capolista il successo della roma contro il lecce lucacus salva murigno gol e lacrime oggi il toro contro il sassuolo questa sera alle 20 45 mentre alle 18 e 30 frosinone empoli a chiudere il quadro dell'undicesima giornata della serie a e poi c'è il milan avanti con pioli crisi milan il tecnico resiste domani il pari san germen il club a fiducia e oggi arriva cardinale sa chi dice giusto così è sbagliato il mercato questo il capitolo dedicato al milan il corriere dello sport apertura sulla juventus tostissima scrive il corriere dello sport quarto successo di fila meno due dall'inter non prende gol da sei giornate la juve corre vince a firenze 16 punti in sei partite murigno ribalta e lecce 2 a 1 tra il novantunesimo e il novantaquattresimo le reti di asmun e di lucacu la roma infinita lucacu sbaglia un rigore onquist gela rui patrissio nella ripresa smun entra in segna e poi ci pensa il belga sorpassata la lazio ecco il milan il futuro di pioli in due gare cardinale arriva dagli stati uniti il destino dell'allenatore è legato a pari san germain e lecce napoli meno male che c'è il gol 24 reti in serie a e 5 in champions finora solo una partita secco finora l'assenza di osimene si è sentita meno di quello che si pensasse poi il cagliari cagliari che trova un'altra un'altra vittoria questa volta 2 1 sul genoa ancora decisivi cambi terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa per la squadra di claudio ranieri che è un mago e il cagliari vola andiamo a tutto sport tutto sport che torna così con molta eleganza sulla questione del della viola park pagato praticamente dalla juventus e scrive juve park i viola al franchi sbattono contro il muro bianco nero esaltato dai difensori di ruolo straordinari di testa ma soprattutto dalla mutua assistenza il match winner alla sua prima rete e dice a maggio vogliamo essere lì il toro sfida la contestazione la curva maratona dice non ci meritate il mercato flop pioli confuso il milan trema la champions già a rischio tecnico sotto esame e il dilemma ibra insomma tutte cose che ci siamo già raccontati andiamo allora agli approfondimenti cominciamo dalle partite di ieri e cominciamo dalla partita di firenze cominciamo da fiorentina juventus che determina secondo la gazzetta dello sport come la sfida scudetto è juve inter subito miretti gol poi tutti dietro assedio della fiorentina ma il bunker regge scrive la gazzetta dello sport due occasioni un gol tre punti la matematica di massimiliano allegri non perdona la fiorentina gioca la juve si riporta la juve vince si riporta meno due dall'inter capolista salvo colpi di scena un milan rinsavito un napoli rianimato la corsa scudetto sarà un lungo derby d'italia la qualità del calcio della juve appare inversamente proporzionale alla bellezza della sua classifica questa è l'introduzione al racconto della partita una partita che ha visto appunto la juve colpire con miretti che decide la gara fabio che colpo aspettavo il gol da troppo tempo finalmente miretti il centrocampista che nelle giovanili segnava tanto ora spero di farne altri e cerco continuità naturalmente si trattasi questa di vittoria al max per la juventus ma anche la vittoria in stile max aglegri dice lo scudetto altre più attrezzate ma sono contento continua dunque il basso profilo del tecnico bianconero prima dell'inter c'è il cagliari e qui parla di calendario non dobbiamo esaltarci sono felice anche per i punti che adesso abbiamo in più rispetto all'atalanta che è quinta avanti così con equilibrio chi probabilmente è molto meno contento anzi sicuramente è vincenzo italiano terza sconfitta di fila per la fiorentina il problema è che italiano non passa ancora la prova dei 9 due centravanti beltran e poi zola per un solo tiro fuori quello del gol delle punte resta un enigma il risolto questo è uno dei temi della fiorentina che tra qualche settimana sarà nostro avversario tra l'altro dopo la sosta andiamo alla roma andiamo alla roma roma infinita lukaku estasi e lacrime lecce avanti fino al 91 esimo murigno vince in 137 secondi si racconta di questa partita si finisce con i baci li dispensa a giose murigno aduar ad auar e soprattutto a lukaku ormai fidanzato suo di una roma che in pieno recupero in 137 secondi pazzi passa dall'inferno al paradiso ribaltando un lecce che non meritava la sconfitta lecce prossimo avversario del milan romeno segna e romeno sbaglia un rigore al quinto ma poi si fa perdonare alla fine dopo il pareggio di asmuni giallorossi arrivano al derby davanti alla lazio e sono a quattro punti dalla champions league le parole di josé murigno che dice cuore mentalità e tifosi per vincere una gara pazza mai vista così tanta passione come per la roma il derby la lazio a 48 ore di vantaggio e per quel che riguarda le pazze rimonte ormai sta diventando specialista anche il cagliari insomma partita meno meno folle rispetto a quella con la con il frosinone ma altrettanto importante il cagliari risale seconda vittoria e addio zona rossa genoa al tappeto botta in risposta viola gudmunson che segna un altro gol acrobatico poi i cambi di ranieri decidono la partita e dunque il cagliari vince e vince anche il monza con doppietta di lorenzo colombo il nostro attaccante segna due bei gol tra l'altro molto bello il secondo molto da centro avanti il primo colombo che boom segna due reti al verona e lancia il monza al nono posto e brianzoli dominano e fanno il terzo gol con caldirolla di testa da calcio d'angolo hellas in crisi un punto in sette gare baroni si giocherà la panchina col genoa e chiede scusa ai tifosi perché si può fare insomma si può chiedere scusa ai tifosi dice baroni non ci aspettavamo una gara così brutta io in discussione nel calcio lo siamo tutti figuriamoci ora chi invece non è in discussione è il nostro allenatore ovvero stefano pioli e come scrive la gazzetta dello sport il milan è con pioli e ne abbiamo parlato ieri no squadra in crisi ma la società fiducia in lui e oggi a milano arriva cardinale avanti con decisione ma paris san germain e lecce peseranno il numero uno di redbird in italia possibile veda ancora ibra a milanello ieri analisi al video il club vede i calciatori ancora vicini al tecnico domani partita con il paris san germain il programma oggi conferenza stampa della vigilia poi domani alle 21 milan paris san germain e poi sabato alle 15 lecce milan seguirà la pausa il milan tornerà in campo il 25 novembre per milan fiorentina alle 20 e 45 progetto stadio in agenda san donato discute accordo di programma a fine anno dunque anche questa è una cosa insomma che continua andare abbastanza avanti e poi le parole di arrigo sacchi che dice giusto appoggiarlo è stato sbagliato il mercato troppi stranieri ambientarsi è difficile il milan non è una squadra io sceglievo le persone prima dei calciatori come frank rai card ma quali sono le colpe del diavolo non secondo arrigo sacchi ma secondo la gazzetta dello sport beh alcuni momenti no di alcuni protagonisti ad esempio megnan non vola più teo e leao frenati ocafor è spaesato questi sono alcune delle colpe del diavolo rafa ha perso colpi e sorriso ora deve ritrovare la mira questi alcuni punti della risultanti dopo la partita di sabato ma c'è la partita di domani e allora il milan trova ritrova il suo la sua le sue sicurezze con loftus pulisic più muscoli e fantasia questo potrebbe essere il 433 di domani con la difesa titolare naturalmente e poi a centrocampo loftus chic crunic e reinders in attacco pulisic girou e leao queste le possibili questa è la possibile formazione del milan che ha il problema del gol non ha ancora segnato in champions league chi invece prima del gol a quanto pare non ce l'ha è il napoli perché c'è vita senza usimene garcia prove di futuro raspadori uomo in più per rinanciare il napoli quando rientrerà il nigeriano c'è l'opzione 4231 quel tecnico francese pensa da tempo per far convivere le punte invece non è riuscito a non far convivere le punte ma a segnare e qui andiamo un attimo al calcio estero è il real madrid la frenata delle real che per la prima volta in stagione non segna 0 0 in casa con il raio vallecano e il girona del mio ragazzo in testa alla classifica della liga frenata real con il raio solo un punto per carlo dimitrievski faele miracolo dopo che il barcellona aveva vinto a san sebastian contro la real società dall'ultimo secondo qui il real non riesce a segnare annullato un gol a vinicius per fuorigioco di osei l'u prima gara del madrid in stagione senza gol c'è una partita questa sera molto interessante ovvero il derby di londra celsi contro tottenham è partita che potrebbe rilanciare il tottenham in testa alla classifica ai mondi opposti di londra celsi un derby per rinascere ma il tottenham piace stare lassù stasera stanford bridge gli spurs serve una vittoria per sorpassare il city in vetta i blues sono ancora in attesa di una scintilla che inneschi il loro potenziale bene questo è tutto per la rassegna stampa di oggi io vi auguro una buona giornata ma soprattutto vi do soprattutto vi auguro una buona giornata poi vi do appuntamento questa sera alla compagnia della live a partire dal 18 e 30 vi ricordo il numero di telefono che passa in questo istante in sovraimpressione qui sotto è il 366 111 2964 per i vostri vocali whatsapp ed essere protagonisti della prossima puntata di talk grazie a tutti e buon lunedì ciao 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 ciao